Sono 95.455 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutta Italia, con il dato per la Sicilia che si attesta a 7.128 nuovi casi. In provincia di Caltanissetta diminuiscono leggermente i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore rispetto al dato precedente, con un riscontro di 238 pazienti che hanno contratto il virus, tutti in isolamento domiciliare. Con 68 pazienti a Gela, 53 a Caltanissetta, 24 a San Cataldo, 23 a Niscemi, 16 a Serra di Falco, 12 a Mussomeli, 9 a Riesi, 6 a Milena, 5 a Sommatino, 4 a Mazzarino, 3 a Campofranco, 3 a Delia, 3 a Sutera, 3 a Vallelunga Pratameno, 2 ad Acquaviva Platani, 2 a Butera e 2 a Santa Caterina Villarmosa. Risulta deceduto un paziente di Caltanissetta. Dalla degenza ordinaria sono stati dimessi un paziente di Serra di Falco e un paziente proveniente da fuori provincia. Sono invece guariti 43 pazienti di Caltanissetta, 31 di Gela, 6 di Mussomeli, 6 di Niscemi, 6 di San Cataldo, 4 di Campofranco, 3 di Butera, 2 di Montedoro, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Villalva.